Presidente, tracciamo un bilancio di questo mercato, ben 16 nuovi acquisti e ben 3 rientri dai prestiti, squadra totalmente nuova, è iniziato un nuovo ciclo con un nuovo mister e una nuova rosa. Sì, abbiamo fatto tanto quest'anno, soprattutto investendo su dei giovani, nonostante qualcuno possa pensare che abbiamo solo incassato, ma di contro abbiamo anche investito, pensiamo di aver fatto una buona rosa, l'unica cosa che chiedo in questo momento ai tifosi è di stare vicino alla società, alla squadra, al mister, perché nel momento in cui ci sono 15 nuovi elementi in una squadra, tra l'altro qualcuno anche in ritardo con la preparazione, c'è nel progetto di Modesto, perché diversamente non avremmo fatto un biennale, quasi un triennale sull'allenatore, chiediamo nelle sue doti, in qualche frangente, anche cittadella, la squadra ha dominato e si è visto che sono grandi idee, pertanto chiede ai tifosi di starci vicino, iniziare dal derby e pazientare, perché io penso che con questo allenatore e questa squadra ci prenderemo belle soddisfazioni. Sono arrivati dei giocatori importanti per la cadetteria e anche dei giovani molto interessanti. Sì, è quello che dicevo prima, abbiamo investito su calciatori importanti, proprio perché crediamo nel progetto e qualche giovane molto interessante. Sono 16 nuovi elementi nella Rosa, sono tanti, per cui adesso abbiamo la fortuna della sosta per le nazionali e speriamo di ripartire già contro la regina. Segue spesso gli allenamenti di Mister Modesto e notiamo che lo fa con un certo interesse. Inoltre in queste prime tre uscite ufficiali ha visto all'opera i suoi ragazzi sempre dal vivo. Che idea si è fatta del nuovo Crotone? L'idea mi sono fatta che non mi sono sbagliato nella scelta dell'allenatore, un grande lavoratore, attaccato soprattutto, essendo lui crotonese, avendo giocato col Crotone, attaccato alla maglia al territorio e questo per noi penso sia una fortuna. Lo vedo sempre molto operativo, attento e concentrato soprattutto nell'insegnare ai calciatori le sue idee, pertanto sono più che soddisfatto. Parlavamo del derby, adesso c'è la sosta, poi si riprenderà sabato 11 con il derby all'uscita contro la regina, derby che tornerà dopo diversi anni. Il derby sono sempre affascinanti, l'anno scorso non ce n'erano perché eravamo in serie A, quest'anno ne abbiamo due con la regina e con il Cosenza e quindi il derby ha sempre quel facile in più rispetto a una partita normale. La rosa è molto, forse troppo folta e c'è qualche giocatore con cui si è intavolata qualche trattativa che poi non si è concretizzata, ma sono girate anche delle voci infondate. Mi riferisco a Riviere, la mia non vuole essere una nota polemica assolutamente, ma non c'è stato nessuno, e lo ribadisco anche perché su alcune testate giornalistiche l'ho già detto, non c'è stato nessun tipo di trattativa, perché le trattative nascono nel momento in cui una società vuole il calciatore, si siede intorno a un tavolo e discute, ma non me ne vogliano i tifosi del Cosenza, io non ho nulla contro i tifosi del Cosenza, ma volevo creare questo aspetto. Il Crotone era disposto a sedersi, a trattare senza nessun tipo di problema, ma questo incontro non è mai avvenuto, quindi non ha telefonato, né tantomeno un incontro di persone.